Il governo di partito, lo sport si tornerà di fuori a termini di dire e o fare qualcosa nella prospettiva comprensibile, forse è riconsigliabile. Per noi prendere la parola alla nazione, staveremo una volta per tutti i primi. Distanci della complessità dell'argomento sulle guerre, noi possediamo alcuna sicurezza, alcuna verità, alcun tono. Distanci della complessità dell'argomento. ... ...